Ragazzi come sempre vi ricordo che se volete acquistare FIFA 23 da un prezzo scontato per qualsiasi console da PC a Xbox a Playstation Consultate il sito di Niba, consultate il link che troverete qui sotto in descrizione insieme a tutti i miei altri social E approfittate delle fantastiche offerte non solo dedicate a FIFA ma anche dedicate ad altri videogiochi che troverete sul sito di Niba Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte queste sere Ho un guasto d'amore, se vedo il Grifone Signori manca sempre di meno al debutto stagionale, al ritorno del Grifone in Serie A Ma oggi un altro episodio dedicato alla pre-season tra calcio-mercato, Abdelarosa, riscatti, obiettivi della dirigenza, slide Colpi di mercato che abbiamo intenzione di completare già in questo episodio Sono come vedete tanti gli argomenti che tratteremo nell'episodio di oggi Quindi mi raccomando come sempre supportate la serie domani un nuovo episodio Avete visto che vi ho lasciato il tempo per recuperare gli episodi che erano finora usciti Grazie appunto alla playlist, quindi anche se siete qui per la prima volta potete recuperarla senza problemi Consultando la playlist dedicata al Genoa qui su A23 Ma partiamo appunto dagli obiettivi Nella passata stagione abbiamo visto una valutazione di 40 Questa valutazione si è confermata, è ancora 40 nonostante la vittoria addirittura del campionato Ma alcuni obiettivi, come ad esempio quello dedicato ai giovani, non l'abbiamo effettivamente rispettato E abbiamo una priorità, è una priorità alta, è una priorità importante Bisogna praticamente lanciare 4 giovani della primavera e farli accumulare almeno 20 presenze Qui parla da inizio o a gare in corso Quindi abbiamo questa fortuna di poterli coinvolgere nel corso delle partite Senza per forza schierarli al titolare Quindi magari metterli anche 10 minuti alla fine poi della partita Magari in un risultato già insomma confermato Quindi abbiamo questa fortuna La fortuna è che sono comunque tanti i giovani Sono 4, non sono pochi, non sono 2, non sono 3, non è 1, sono addirittura 4 Quindi bisogna prenderne 4 e utilizzarli Ma ripeto, questa è una cosa che dovremmo fare Però appunto cercherò di non dargli tanto spazio ai titolari Anche perché noi comunque abbiamo impostato una filosofia Noi compriamo giovani dall'estero Certo sarebbe interessante lanciare un primaverma Infatti un giocatore, quello che abbiamo preso nella passata stagione Avrà sicuramente dell'opportunità Però volevo comunque continuare la filosofia 7-7-7 partners Che tra poco appunto andremo a rivedere un attimino Ma guardiamo gli obiettivi proprio principali Aumentare il valore del club del 25% Con accessioni di giocatori o ricavi dalle competizioni Acquistare un giocatore di una nazionità diversa rispetto al club Quindi francese, belga, tedesco L'importante è che non sia italiano E poi ottenere 5 vittorie in campionato In una stagione che vede appunto solamente 5 le partite da vincere Per la dirigenza Ma in realtà non ne vogliamo molto di più A differenza della passata stagione dove invece erano 10 Dove ci si aspettava di essere protagonisti Adesso invece tutto è cambiato Serie A, massima divisione del calcio italiano Un Genoa che sicuramente non è candidato alla vittoria del campionato Non è candidato all'Europa League Potrebbe essere però candidato a una salvezza tranquilla Che è l'obiettivo che vogliamo appunto percorrere Quindi non puntiamo a chissà che cosa Ma semplicemente cercare di evitare Quella lotta, quella pressione Quella zona rossa della classifica Che nelle passate stagioni INA ha messo molto in difficoltà il grifone Prima di andare avanti però come sempre ragazzi Ringrazio il gruppo Facebook FIFA 23 carriera allenatore E ancora una volta Luca sei la mia ultima speranza Perché voglio provare le tue slide Ho visto che le pubblicate Le ho messe E vi lascio qua lo screen Vi lascio qua lo screen Lo state vedendo probabilmente in questo momento Con tutte le indicazioni Con tutte le modifiche Che dovete fare? Io credo, immagino che siano Slide per la difficoltà leggenda La difficoltà che ho e sto tuttora utilizzando In questa carriera E credo che funzionino A prescindere dalla console Quindi anche se siete su console di vecchia generazione Dovrebbero comunque funzionare Sono slide creata apposta Per l'ultimo aggiornamento Di FIFA 23 Che ancora devo provare Quindi spero oggi di poter giocare delle partite In modo tale da provare le slide E vedere se alla fine il gioco è effettivamente migliorato Dopo le mie pesanti critiche Davvero mi dispiace È la prima volta che faccio una cosa così Però mi veniva proprio dal cuore E non ne ho potuto fare a meno Signori Mercato 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 Perché abbiamo Veramente Mi dispiace anche che stiamo un po' andando lenti Abbiamo rallentato un po' Però secondo me era giusto Prendersi un attimino una pausa Per riflettere Per fare una serie di considerazioni Per coinvolgervi Vi ringrazio del supporto Perché siete fantastici Ci avete scritto in tantissimi E questo è poi il risultato Mi avete parlato di Martinez Mi raccomando Se non costa troppo Puoi riscattarlo Abbiamo visto comunque una valutazione Che non è esagerata Certo Purtroppo è colpa nostra Colpa nostra se l'abbiamo diciamo Reso un giocatore con over 65 Se l'abbiamo fatto aumentare Vertigiosamente Il suo valore di mercato Ma è un valore comunque che Per le qualità che ha Secondo me Ci può tutto sommato stare Un investimento che farei Volentieri Stiamo poi osservando I giocatori dello standard Liegi Perché alla fine Sì È una figliata del Genoa 777 Partners Condividiamo la stessa rete Di osservatori Dirigenze E quant'altro Raskin Giocatore belga Laifis Difensore cipriota Trentenne Esperto Ci può stare E non so come pronunciarlo Noa Oio Non lo so sinceramente Poi vedremo La pronuncia corretta Attaccante Olandese Molto giovane Che potrebbe essere appunto Quel colpo Che ci può permettere Di fare il salto Di qualità davanti Mantenendo comunque Reparto offensivo Una linea verde Molto molto alta E poi Attenzione Le occasioni a zero Adesso io non so Quali completeremo Nell'episodio di oggi Ma una La voglio assolutamente Completare Che quest'ultima Ve l'ho anche spoilerata Nelle storie di Instagram Mi raccomando Seguitemi in i vari social Per rimanere Aggiornati Anche per avere Queste chicche Di carriera Queste anteprime Questi spoiler Il ritorno del faraone Il ritorno del faraone È grazie sicuramente Al Genoa Che il Sharawi È diventato Un ottimo giocatore Che ha avuto modo Comunque di togliersi Diverse soddisfazioni Magari in una carriera Che poteva essere sicuramente Più bella Più della protagonista Ma di sicuro È soprattutto grazie Alle prestazioni Che ha così Accumulato con il grifone E quindi E quindi Stiamo parlando Di un giocatore Che ci dice Ci proprio Ci chiama e ci fa Mister Ma allora sto 4-2-3-1 4-2-3-1 Confermato Direi di sì ragazzi Direi di sì Alla fine Mi sono arreso Nel senso che Alla fine Anche Blessin Un po' mascherato Perché Blessin Guardami negli occhi E dimmi la verità Alla fine tu Dici tanto 4-2-3-1 Ma alla fine Io credo che È sempre 4-3-1-2 Io ci vedo sempre Quel modulo Ma Almeno su FIFA Cercheremo di mantenere Appunto il 4-2-3-1 Quindi Yeboah In questo momento Lo stiamo allenando Per Cambiargli Il ruolo Lo trasformeremo appunto In una S Puro Purissimo Un giocatore In questo momento Nella realtà È in prestito al Verona Ma che alla fine È tornato a casa Che voglio provare un po' È Yaya Callon Yaya Callon Altro elemento Altro profilo Che potrebbe veramente Essere Particolarmente Interessante Esattamente ragazzi Lavoreremo con una sorta Di attaccante esterne Perché Callon Lo faremo lavorare Sulla destra Piede invertito Quindi mancino Yeboah invece Sulla sinistra Piede invertito Piede destro Quindi Queste diciamo Sono le nostre intenzioni Piano di crescita Anche se Yeboah diciamo Che in questo momento È indisponibile Ma È alla sinistra E lo stesso appunto Sarà per Callon Chiaramente Non alla sinistra Ma alla destra Sette settimane Contro le due Di Kelvin Yeboah Anche se Come ho detto Yeboah in questo momento Non può fare assolutamente nulla Inoltre I giocatori in scadenza Li portate qui sopra Bani Gudmonson Koda E Kuban Allora Qui dobbiamo Un attimino Allora io Koda Un anno in aglio Lo voglio Lo voglio Perché Non è etichettato Come il bomber Della B Ma Bomber Della A Dalla panchina Secondo me Se lo merita Se lo merita Se lo merita Da giocatore Che è stato criticato Sottoscritto Da giocatore Che però Con tutti quegli avvenimenti Di mercato Puska Scandato via L'infortuno Di Yeboah Alla fine ragazzi Ha giocato Si è reso utile E merita Secondo me Non dico il rinnovo Perché il rinnovo Secondo me no Ma una stagionina Quindi rimanere al Genoa Assolutamente sì Non lo so Su E.Q.Ban Su E.Q.Ban Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti Mentre invece Voglio dare fiducia A Mattia Bani E ad Albert Goodmanson Tutte e due Rinnovo Tutte e due Li voglio vedere Non in questa stagione Non solo in questa Ma anche poi In quella successiva 1.900.000 euro Per Parigini Mentre invece Qui si è creata Una asta Per Touré 2.750.000 euro Quelli Offerti a Bramford Il Crystal Palace 2.900.000 Speriamo Lui è una clausola Comunque che si avvicina A 4.000.000 Quindi in teoria Potremmo anche Eventualmente farci Qualche soldino in più Però intanto Ufficiale Alla fine Touré Ha accettato Una delle due C'è il tutto Al Crystal Palace Buono Perché alla fine Ci guadagniamo Qualcosina di più Vediamo un attimino La valutazione Prezzo decente Sì beh Qua abbiamo Probabilmente Potevamo chiedere Qualcosa di più E il Sharawi Genua Il ritorno Stipendio Molto Molto Importante Ma Adesso siamo in A È normale anche Che il Montengaggi Si alzi un minimo È normalissimo Cercherò comunque Di stare Un pochino più basso Rispetto Ai soldi Chiesti Suggeriti Più che chiesti Il Sharawi e la gente Non hanno per ora Chiesto nulla Elemento cruciale Attenzione Perché qui parla Di AS Perché in quel posto C'è Yeboah C'è Yeboah In quella zona di campo Quindi vedremo anche Come eventualmente Gestire poi Yeboah Però è palese Con il Sharawi Dobbiamo per forza Di cose Secondo me Dare più fiducia Lui Con un bonus Con un bonus Di ingaggio 32 mila e mezzo Con anche poi Un bonus Legato ai gol Ci può stare E beh Allora Di sicuro Il numero di maglia Poi sarà Sballato come sempre Però Torna il Sharawi Torna a casa Vivai o club Tra l'altro Se non sbaglio Deve essere Vivai o club Quindi Non c'entra nulla Con le liste Non fate finta Di aver sentito Però Va bene così Ragazzi È tornato il faraone Questo acquisto Mi gasa abbastanza Sincero C'è un acquisto Che mi piacerebbe Vedere anche nella realtà Qualora il Geno Dovesse tornare in A Lui che poi alla fine Non è un titolo Larissimo alla Roma Ma Quanto fa piacere Rivedere Il Sharawi Rosso-Blu S Il massimo Non so se Perché il massimo Che abbiamo visto È stato A Ma qua secondo me Si vola No A Si limita A Non so se ci sia S Però Ottimo a fare Ma assolutamente Ragazzi Assolutamente Parliamo di un giocatore Presa a parametro 0 Un euro del 78 Presa a parametro 0 Quindi davvero Tanta 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 roba Per gli altri giocatori Voglio sapere la vostra opinione Io non so quante Partite giocheremo Non so quanto Andrò avanti Ma se andando avanti Rimangono comunque Liberi Questi elementi Fatemi sapere Chi vorreste Vedere al Genoa Vi dico solamente una cosa A parte A Cialoba Che probabilmente Noi mentre al campo Ci servirebbe effettivamente Qualcuno Ma Probabilmente punteremo Raskin Dallo standard Il resto invece Siamo coperti In difesa siamo a posto E i terzini siamo a posto Quindi Sarebbe un di più Fatemelo comunque sapere Mi raccomando Qui sotto nei commenti Anche perché si tratta Di tutti elementi Sotto i 30 anni E Plusvalenze Molto facili Perché qui Davvero Potremmo guadagnare Abbastanza Io Ragazzi Punterei adesso A Martinez I soldi li abbiamo Martinez deve tornare a casa Lipsia Non avrà spazio Perché Il titolare Non è lui E non sarà lui Quindi mi raccomando Prendiamo Martinez Vabbè ragazzi Mi sembra anche una trattativa Abbastanza semplice 4 milioni e 2 A posto Cioè Davvero Vabbè Lasciamo perdere il discorso Legato ai Ai riscatti Perché l'abbiamo preso Per farlo giocare Come ha fatto La passata stagione 4 anni Si può E troppo Perfetto Nessuna clausola Questo va bene Sullo stipendio Io farei Uno in meno Di quanto Prende Lipsia Potremmo Anche Pareggiare La stessa cifra Come ci sta ragazzi Comunque Guardando l'overall E tutto Adesso vedremo anche come Ci giudicherà Poi FIFA Su questo acquisto Intanto Bentornato Martinez Protagonista ragazzi Nel bene nel male Ma direi più nel bene Perché alla fine Tanto criticato Ma i dati al termine Campionato Hanno comunque dimostrato Che Martinez E' stato Tra i migliori Insieme a Buffon Nella passata stagione In B B B B B B Non viene Giudicato proprio come colpaccio All'el Sharawi Però Allora questa è una clausola Loro non vogliono venderlo La clausola comunque Più del doppio rispetto al valore Però Ah Attenzione Attenzione Perché proprio Non vogliono nemmeno Cioè O paghi la clausola O paghi la clausola Eh qua ragazzi Bisogna pensarci un attimino Qua bisogna pensarci un attimino Qui invece lui la clausola Ce l'ha ma Vediamo un attimino Se vogliono trattare Qua possiamo trattare Allora trattiamo Per l'attaccante olandese Dalla pronuncia Sconosciuta Almeno per ora Poi me la vado A recuperare Melegoni Eh Sì Ragazzi Sì 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 Guarda Va benissimo Perché se prendiamo Ruskin E giocando poi Con un centrocampo a due Eh Melegoni non troverà mai spazio Quindi Ci sta come trattativa Tutto sommato ci sta Il problema è che Non sappiamo quanto Guadagni di stipendio Sperando che ci suggeriscano Poi loro Un Un'offerta Un qualcosa Oh bella Meno male Meno male Meno male Meno male Accettiamo Accettiamo E rinforzo Per il reparto offensivo Per forza di cose Sì Perché comunque ragazzi Avevamo bisogno Di un nuovo attaccante Perché è un Un coda Che non sappiamo Cosa farà Se continuerà a calare Se manterrà invece Quell'overo Se manterrà Quel numero di gol Avevamo bisogno Comunque almeno Di un'alternativa Anche perché Kuban Rappresenta un grosso Punto di domanda E Kuban Mi raccomando Insieme anche Gli altri giocatori Fatemi sapere Qui sotto Nei commenti Perché leggo Tutti i commenti E vi ringrazio Ancora una volta Benvenuto Noah Per ora ti chiamo Noah Poi vedrò Di informarmi Al meglio Sulla pronuncia Vediamo un po' Anche perché Questa è una trattativa Che Si è evoluta In maniera bizzarra E Ci Probabilmente È davvero Una valutazione Così bassa Perché dicono Per me Si giudicano Un pochino Troppo l'overall Non pensano Magari a come Può diventare Il giocatore Dicono Attualmente Preso Novo 67 Di conseguenza Te lo bocciamo Abbastanza Come acquisto Niente ragazzi Ruskin Valutiamo E poi appunto Ci sono tutti I parametri In teori In teoria Avremmo i soldi Per Ruskin Ci sono Dove Tra l'altro Aggiungo Abbiamo anche Un profitto Leggero Il 2.260.000 euro Ci sta Però Spenderli tutti Adesso per Ruskin Secondo me Non ne vale la pena O Facciamo delle cessioni Da valutare Appunto Anche questa Dibi Ruskin Che potrebbe portare Magari anche 5 milioni Secondo me O 4 Almeno Inoltre il bivaio Lo consulteremo Poi nel Nel prossimo episodio Prometto che Anche perché Dobbiamo per forza Quindi il bivaio Va sicuramente Un attimino visto Però ragazzi Direi Di toglierci Almeno la soddisfazione Di giocare Una partita E di provare Il nuovo Genoa I nuovi giocatori Del Genoa In questa preseason Non prendetela Come la formazione Titolare Questa è una formazione Giusto così Anche perché abbiamo Diversi giocatori stanchi Non al 100% La condizione Però molti di questi Potrebbero sicuramente Essere futuri Poi titolari del Genoa Prova importante Per Vasquez Prova importante Per Callon Loro due Potrebbero effettivamente Poi diventare I nuovi Titolari del Grifone E poi vedremo anche Il giovane olandese Cosa Saprà fare Nel corso di questa preseason Lo andremo ad alternare Insieme a Tengstead Contro lo Sheffield United Torneo estivo Si comincia Siamo al Mestaglia Siamo in Spagna E siamo pronti Con la 22 Con la 22 Intanto A posto Inoltre questa è la prima partita Con le slide di Luca Quindi C'è curiosità Per vedere un attimino Come mi trovo Noah FT Lo chiamo Noah Finché non imparo bene La pronuncia Intanto nello spazio A cercare Goodmanson Un po' di confusione Dietro Attenzione Il passaggio Non era perfetto Al portiere O meglio Il portiere Non l'ha controllata Benissimo Brewster Da fuori Ci prova Col sinistro Si accentra Il più passo Del faraone Buon passaggio Un po' meno Lì il controllo Poi attenzione Mettiamo pressione Al portiere Che prima Stava per commettere Il clamoroso autogol Goodmanson Faraone Ancora scambio Con Goodmanson Che di prima Tiro troppo debole Troppo centrale Jagiello Avanza Poi Ecco Noah Si libera Dello spazio Attenzione In mezzo Perché c'è Il tutto Solo Callone Il pallone Che rimane lì E il Ceraway Poi non riesce Ad affondare Clamorosissima Occasione del Genoa Al minuto 52 E ancora il Grifone Che prova ad attaccare Andiamo a servire Ezekweb Pronto il pallone In mezzo Per Noah Che non vince Il duellerio Poi ancora Ezekweb Il pallone è buono Rimane in direzione Faraone Allora se la sposta Se la sistema Ezekweb Serve Portanova Fa partire il destra Attenzione Perché probabilmente Noah Probabilmente Noah Infortunato Intanto Dentro Zibor Al posto di Ezekweb Palle in mezzo Potrebbe calciare Primo palo E poi arriva il gol Facile Questo Proprio di Brewster Per l'1-0 Per il vantaggio Dello Sheffield United La difesa schierata Il Genoa Si è fatta così Trovare un po' in difficoltà Al primo vero affondo La prima vera occasione Pericolosa Per gli avversari Tensted appena entrato Di Aghiello Nello spazio Va a servire Il Sharao Attenzione al Faraone Il Faraone Tiro centrale La doveva angolare La doveva piazzare Bravo Intanto Galdames Grande recupero qua Del pallone Tensted Si libera Tensted Il sinistro Diverse occasioni Per il Genoa Poche invece Ma sfruttate bene Per lo Sheffield United Vincono gli inglesi Possono festeggiare In questa pre-season Come trovo Con le nuove slide Direi abbastanza bene Il gioco naturalmente Molto più lento Molto più studiato Bisogna un attimino Prenderci la mano Però ci sta Ci sta assolutamente Non correggerei per ora Momentanemente nulla Nel senso che voglio Comunque accumulare Un po' di partite Poi eventualmente Tiro le somme Magari qualcosina La modificherò Però anche in generale Sui nuovi acquisti del Genoa Non male Sicuramente C'è tempo per migliorare Ma appunto Abbiamo il tempo Per poterlo fare Perché mancano ancora Diverse settimane Dall'inizio della Serie A Oggi sarà Non vedremo altre partite Quindi la partita che avete visto Sarà appunto Cioè è stata Diciamo l'unica Ed ultima partita Di questo episodio Molti dicono Mister Velocizza Fai più partite Gioca Però ragazzi Non me la sento Ad andare avanti Perché in queste fasi Di mercato Ho bisogno Della vostra opinione Soprattutto nella sessione estiva Dove quella dove Possiamo un attimino Prenderci un pochino Più di tempo Un conto gennaio Dove si gioca Durante il mercato Ma in quell'estiva Ragazzi Prendiamoci un po' di tempo E valutiamo bene Quindi ricapitolando Ragazzi Il Genoa per ora È questo La nostra rosa Momentaneamente È formata da 31 elementi Siamo ancora tanti Ci sono ancora Degli elementi Che potremmo Pensare anche di vendere Appunto Gozzi Potrebbe essere Uno di quelli Abbiamo diversi giocatori Biraschi C'è ancora il Sunker Che secondo me Per quanto fatto Nella passata stagione Possiamo anche Mandarlo via Questi giocatori Che stiamo continuando A valutare Raskin Bisogna un attimino Vedere quanto Riusciremo a ricavare Dalle eccessioni E poi uno Tra Olaina Barba Bianda E Cialoba Quindi Ah ecco Cialoba Appunto No purtroppo Vedete Quello che vi dicevo Non posso andare Tanto avanti Perché poi Si rischia Di perderli Cialoba Era quello Probabilmente Il più interessante Di tutti Quello che faceva Più gola Ed in effetti È volato È volato È volato Nel giro Di pochi giorni Ragazzi Sono rimasti Quindi questi profili Fatemi sapere Aspetto la vostra opinione Qui sotto nei commenti Domani Un nuovo episodio E domani Partite Perché si farà sul serio Inizierà la serie A E inizieremo a divertirci Con il nostro grifone Ciao ragazzi A domani Grazie a tutti